Buongiorno a tutti, siamo qui con il Ministro e siamo molto interessati, Ministro. Io ho letto ultimamente della sua voglia di fare qualcosa per i nostri connazionali all'estero, gli italiani all'estero, in occasione dell'Expo 2015, che sicuramente è un fatto molto importante, soprattutto per noi che siamo all'estero e vogliamo un attimino magari ritornare e assaporare questi gusti. Guardi, sono molto contento di potervi dire che proprio nelle prossime settimane presenteremo un progetto dedicato agli italiani nel mondo che vorranno tornare in Italia nel 2015 grazie all'Esposizione Universale. Si tratterà di una carta vanotaggi, di una card speciale che garantirà una serie di servizi e di agevolazioni per i nostri connazionali che vogliono vedere Expo e poi ovviamente per rimanere sul territorio e tornare magari nelle località di origine potranno farlo anche con queste agevolazioni, questi servizi che in qualche modo faciliteranno la loro presenza e il loro ritorno, a partire da una serie di servizi utili, quindi penso che potremo continuare a lavorare insieme e sono contento che questo progetto, poi vedrete che sarà uno dei progetti più interessanti che l'Esposizione produce pensando anche alle nostre comunità all'estero. Bene Ministro, la ringrazio anche perché le nostre comunità veramente hanno voglia di riasciaporare e comunque di aiutare in qualsiasi modo e questa è una bellissima cosa che si può fare.